Affrettatevi e ammirate uno dei misteri più inspiegabili dell'universo. È un uomo o una bestia? Questa creatura è stata esaminata dai più insigni scienziati, che vi hanno riconosciuto un uomo. Io sono pronto a offrire a voi un'ultima occasione di testimoniare la sua suprema stranezza. Da dove è sbucato? Generato dalla stessa minacciosa lussuria che ci ha portati tutti su questa terra, ma che si è guastato nel grembo materno. Inadatto alla vita! È una bestia? O un uomo? Siete fortunati perché stasera vedrete come si nutre. Affrettatevi e scopritelo! È un uomo o una bestia? È un uomo o 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 un u